Gentili telespettatori, buona giornata. Vediamo quest'ultimo sondaggio di Lab2101 per AffariItaliani.it. Fratelli d'Italia, primo partito con il 29,1%, sempre nel centro-destra, risale la Lega fino al 9,5% e poi Forza Italia al 6,4%. Il PD sempre al 15,1% debole, mentre il Movimento 5 Stelle arriva al 18%, cresce ancora l'Azione Italia Viva all'8,7%. Risale poi al 53,1%, dal 53,1% al 53,3% la fiducia nel Presidente del Consiglio, nel primo sondaggio del 2023. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.